Ad intervenire sulla presenza della DIA in città ieri mattina, che ha visto coinvolti nelle indagini l'ex sindaco Alfieri e l'attuale sindaco Adamo Coppola, è il consigliere di opposizione della città di Agropoli, Agostino Abate. Nel corso della campagna elettorale amministrativa del 2017, dichiara Abate, abbiamo denunciato più volte un forte condizionamento elettorale dovuto a variazioni amministrative compiute dall'esecutivo allora in carica, adozione del PUC, piano urbanistico comunale, a pochi giorni dall'elezione, inaugurazione di opere pubbliche ancora non compiutamente terminate. La nostra denuncia, sottolinea il consigliere, mirava a mettere a fuoco un comportamento scorretto finalizzato alla captatio benevolenzia dell'elettore in un momento importante per la nostra città. E questo per non parlare di altri atti amministrativi compiuti in un periodo definibile tranquillamente come periodo elettorale, nella sostanza continua Abate. Tutte queste azioni amministrative hanno di fatto comportato un voto orientato. Il voto orientato è il primo passo silente del voto di scambio e mira a mortificare l'avversario concorrente che ha basato sull'onestà intellettuale non solo l'intero programma elettorale ma addirittura tutta la sua vita personale e professionale. Ho sempre combattuto per una politica che avesse saputo restituire centralità al consiglio comunale e garantire che l'onestà intellettuale potesse diventare la base su cui fondare la vera democrazia e la vera politica, ossia quella che non perde mai di vista il fine ultimo e cioè aiutare a vivere meglio tutti i cittadini. Continuerò a fare insieme a tanti altri cittadini e ad altri consiglieri comunali che ancora credono in questa onestà intellettuale che seppur fuori moda e visibilmente sconfitta in questi ultimi anni tornerà ad essere la vera protagonista dello sviluppo sociale e culturale del nostro territorio. Abbiamo tutti bisogno, conclude Abate, di una giustizia libera ed incondizionata che non permette a chi che sia di orientare in modo maldestro il libero voto dei cittadini.